grande lori ciao bene sono già belli i caldi ma scaldiamo bene ancora adesso soprattutto anche il freno perché già la prima ci serve perfetto qua buttati in mezzo perché c'è qualcuno che sta là in traiettoria si ti butti in mezzo e poi ti riporti a sinistra ti dici anche chi so? master rimorano è dietro si noi guardiamo avanti e giriamo col frenino vabbè ovvio scappiamo via vabbè bocca al lupo viva il lupo stendiamo? puoi andare vabbè 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 e ora due, prezzo, atto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.